ciao ciao questa volta siamo più furbe un cellulare solo così guardiamo nella stessa direzione tutti e due non sembriamo due tasche anche se io ho un po' un ciuffo frivelle stamattina allora ma vogliamo parlare di quanto è bella lei oggi guardate lei quanto è bella cosa cosa hai messo allora ho messo questo di mac ma tu sai che io i nomi non mi ricordo è bello che li ho guardati stamattina poi lo dico alle ragazze è il slm di mac sala madonna no vabbè non me lo ricordo magari ve lo metto dell'info box ve lo faccio mettere dall'info box da ora ti mando un whatsapp stasera comunque va bene a base di gerland rossetto e ombretto rosa che non si vede per niente e forse a questa distanza e basta e se sempre il solito rossetto la matita di essence wake up a spring qualcosa del genere e sugli occhi ho usato la una palette ma non mi ricordo non so niente una slm che la tua eh sì esatto allora siamo qui per il nostro consueto video episodio 2 della nostra interessantissima settimana questa volta inizio io perché l'altra volta iniziato lei insomma facciamo un po' per uno cosa devo dirvi questa settimana guardate io la riassumerei in una sola parola autista non è successo praticamente nulla ho solo fatto tante volte l'autista per mio figlio ho appena finito adesso oggi è venerdì lo registriamo venerdì e poi lo mettiamo domenica quindi dal venerdì scorso ad oggi io ho sempre portato mio figlio avanti indietro per fortuna oggi è l'ultimo giorno del tirocinio yeah poi dopo tornerà a scuola poi saremo tutti felici lui per primo lui per primo si siano veramente contento stamattina e quindi ma poi hai avuto anche ospiti stella stella si di nuovo anche ieri sera cioè si è nel weekend quindi si non è vero che ho una bad mamma cioè a me fa troppo ridere sono troppo tenerocci insieme però mi angoscia un po' cioè devo mettere a posto la casa devo pulire la casa però mi tiene bella vispa no quindi dai mi va anche bene mi fa piacere perciò io direi che ho fatto le solite cose la spesa bla 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 insomma proprio veramente più che altro ho fatto l'autista punto io ho avuto una settimana abbastanza piena perché sono stata impegnata con un progetto creativo con la letra bello quando lo metto su instagram una foto perché una sua insegnante di francese le ha chiesto di fare un modellino di casa per poi presentarlo ovviamente parlando con la realtà doveva dire abbiamo venuto c'è mua il gale se giur la shambla la salde bagnes e somma è quella roba lì c'è quattro parole ho fatto un modellino vabbè comunque si ha fatto questo modellino ci siamo divertiti un sacco perché abbiamo utilizzato materiali di recupero e soprattutto ho visto lei con la sua creatività perché l'ha fatto lei praticamente io l'ho aiutata inizialmente con la colla a caldo perché come tutte le mamme sai che sono un po paura e invece incollava meglio di me diciamolo ma è stato questo weekend che ha vinto ah sì domenica è arrivata prima un quarta categoria nazionale sì sì tennis tavolo stavolta non sbaglio dato che lei gioca tennis tavolo sì sì con sorprezza di tutti visto il periodo un po di crisi interversa ha vinto un prima un quarta categoria nazionale che abbastanza complicato perché ci sono donne dai 0 ai 96 anni che giocano quindi potremmo andare in assi giusto una sleppa di gorgonzola esatto quindi brava ele e niente poi che altro fatto ho fatto il progetto ho sistemato un po casa cosa un po insolita infatti è cambiato il tempo questo video non lo farò mica che torna a piovere il tempo è ritornato bello finalmente fa caldo infatti fa caldo ho lanciato il pvv sul mio canale anzi grazie a tutti quelli che partecipano anche a duca bonfi perché abbiamo anche certo così se vince gli orecchini tra l'altro volevo porti una cosa perché lui ha fatto un video interessantissimo sul suo giardino no si ha fatto vedere il suo giardino per altro bello e io per ridere gli ho scritto il mio fa in fretta perché basta che ti affaccio la finestra grande come quello della barbica è proprio piccolo del mio però pensate potremmo fare un video tragico amico dei nostri giardini vuoto cosa ne uscirà sarebbe bello perché quando taglio l'erba faccio il video e io quando spolvero le cacche dei piccioni parliamo di piccioni che mia mamma me li ammazzerebbe tutti sai che sporcano tutto tutto tutte le scale perché sono all'esterno passano e sporcano tutto e poi ovviamente niente sono contenta perché tante stanno partecipando al giveaway mi raccomando sono a dieta così bananava è contenta che si preoccupa della mia salute e basta questa è la nostra settimanuccia il tempo si è sistemato sono contenta che è un po' di caldo adesso cosa facciamo andiamo a lavorare? ci tocca è stata una bella settimana direi abbastanza tranquilla io ho anche ricevuto abbiamo ricevuto la degusto box io ho ricevuto la creative box che hai fatto il video? no ancora no non so se farlo o no perché veramente il contenuto è dire che è imbarazzante vabbè è fare un complimento l'altra volta era più bello l'altra volta era molto bella sì no ma anche la volta precedente era molto bella questa volta è veramente imbarazzante io la definirei imbarazzante sì per uno che paga io ho pagato esatto ti tengo io degusto box io non pago però sono stata contentissima lo stesso è stata contenta anche io esatto perché la besciamelle ho dato la besciamelle i due spassati di verdura qualcosa del genere vabbè io sono contenta no vabbè ma è sempre ricca ma per carità ci sta che magari un mese è un mese con l'altro però era veramente imbarazzante perché ragazzi ho trovato dentro un uovo di polistirolo ma cosa c'è per fare? dieci mezze mollette di legno cos'è che c'è? gli acquarelli e un coso per dipingere lì in grado è così vi assicuro e basta sì non mi ricordo più che altro eh non mi ricordo adesso e comunque ragazzi sai quelle cose sbrilluccite? ah la porporina brava la porporina eh davvero davvero imbarazzante è il foglio di fommi si chiama ah sì sì davvero imbarazzante davvero imbarazzante questa volta però vabbè speriamo nel mese prossimo che sia un pochino meglio ma se no ragazzi cioè io pago eh voi segnalate a questo tipo ecco brava diglielo io pago va bene ragazzi dai la nostra settimana è questa questa esatto e ci vediamo venerdì no domenica prossima è vero perché non lo vediamo la domenica è la settimana prossima dove io sarò agitatissima ma lei sapete dove va? no vabbè a Hong Kong cioè se l'invidia di mio figlio salo ma quante cose pucciose vi porterò eh mi raccomando poi facciamo un video ya sta ok ah devo portare le cose da mangiare anche le cose strane dai 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 sì sì va bene va bene mi appunto tutto sì brava ricordo e poi ovviamente nel mio canale farò cose di usci tenterò di fare qualche vlog delle cose che vedo ah sì ok e anche se non è al di niente quella creatività però Hong Kong ma sì appunto poi in un canale esatto più che altro speriamo di tornare perché se l'anno scorso stavo rimanendo nella giungla quest'anno no nella foresta pluviale perché eri a San Juan no ero in sì ero in Porto Rico mezzo nella foresta pluviale senza benessere c'è Hong Kong e senza cellulare cosa c'è Hong Kong i dim sum va bene va bene vediamo se tornerò qui quindi sopportatemi che il settimana prossima inizia lo sclero e tu è ancora qui il settimana prossima per tutti e due inizia lo sclero esatto va bene dai bacione bacione e buona settimana prossima buona settimana ciao ciao raga ciao 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 ciao